Questa sera a Barbe e Capelli parleremo di Palavolo, dei play-off della Leo Schuse e lo faremo insieme ad uno dei protagonisti della squadra Gelo Blu che io saluto e che abbiamo collegato con noi. Ben ritrovato Daniele Mazzone. Ciao a tutti. Ciao, come va? Bene, diciamo che la partita non è andata come volevamo la prima, ma siamo pronti per la seconda e che sicuramente dovremmo giocare in maniera diversa dalla prima, quello è ovvio. Senti, o lei nelle dichiarazioni post partita ha un Gianni abbastanza amareggiato che ha parlato di una squadra che è entrata in campo timorosa. Noi pensavamo che con questo fatto che dell'assenza dei due titolari della Lue foste voi in un qualche modo a provare ad aggredirli. Cosa è successo? Sì, quello era quello che doveva accadere. Noi primi ad aggredirli invece siamo farsi una squadra che aspettava che l'avversario gli regalasse i punti senza renderci conto che comunque nonostante le due mancanze avevamo davanti un Kovar che ha giocato partite importantissime ed è super abituato a questo tipo di partite. E' un Falaschi che comunque le sue esperienze ce l'ha e quindi non una squadra che ti regala la partita. Sì, certamente non una squadra, sì chiaro, penalizzata dall'assenza ma comunque una squadra con una rosa molto importante non da oggi ma da sempre. Senti, finiti poi questi play-off che speriamo si possono allungare il più possibile. Ti aspetta però un'estate molto intensa con la Nazionale e soprattutto con le Olimpiadi. Lo spero bene, ovviamente le convocazioni non le faccio io però spero di non avere brutte sorprese. Sarà un'estate diversa con una bolla a duella WNL che sarà sia bella da giocare ma comunque anche stressante da vivere perché tante partite chiusi in un hotel non sarà un momento facile. E poi però arriverà l'Olimpiade e lì qualunque sarà la condizione sarà un'emozione tutta da vivere. Molto bene, noi approfondiremo tutti questi argomenti stasera a Barbe e Cappelli. Intanto io saluto Daniele Mazzoni e do tutti l'appuntamento per stasera.